Mobile World Congress di Barcellona, stand LG, finalmente LG ha portato anche qui da noi, dal nostro territorio, in Europa, i nuovi LG Io sto provando lo Sport, Claudio lo Style, questo è appunto il modello più sportivo, appunto cinturino in plastica, Android Wear 2.0 Abbiamo tre tasti fisici, c'è pure una rotellina qui che ricorda tanto, insomma, quella di Apple Watch Il funzionamento è lo stesso, agisce sia da tasto Home, diciamo, sia per scorrere i menu Orologio molto molto fluido, molto più fluido degli Android Wear 1.0, grazie a uno Snapdragon Wear 2100 Abbiamo poi uno schermo da 1,38 pollici OLED con risoluzione 480x480 Ci sono 4 GB di memoria a disposizione degli utenti per caricare, insomma, file multimediali Una RAM da 768 MB, connettività inclusa LTE, quindi SIM in questo watch per renderlo tutto autonomo Dallo smartphone abbiamo sensori come il GPS, il giroscopio, il sensore di luminosità ambientale, quindi per regolare in automatico la luminosità La batteria da 430 mAh resistente ad acqua e polvere, insomma, questo è l'LG Watch Sport nella versione appunto più sportiva Android Wear 2.0 già lo conosciamo, quindi è tutto come sullo style che sta appunto provando Claudio Vedrete un hands-on anche di quel modello Grazie Panetti